Amici, benvenuti sul canale poetico Savino Tessi. Ho creato una nuova poesia dal titolo Delusione. Spero che dopo la spedirete a tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia perché a volte rimaniamo delusi, crediamo che gli altri faranno le stesse nostre cose buone e positive che noi facciamo per loro. Questo è un esempio lampante che se dai 10 a volte ricevi 2, non ti devi lamentare, è una cosa normale. E non credere che gli altri ragionino come te, perché a volte c'è egoismo, c'è poca attenzione, c'è poco riconoscimento verso gli altri. Però, nonostante tutto, bisogna essere di esempio, dare un lampo forte all'umanità e essere sempre impegnati nel crescere con l'impegno quotidiano, sempre. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Delusione. Non credere che gli altri faranno per te ciò che tu fai a loro sarebbe un errore lampante. Non credere che gli altri ragionino come te, perché a volte sono egoisti e non hanno tante attenzioni. Non credere che c'è generosità, perché sbaglieresti davvero. Credi solo alla casualità di un piccolo gesto sporadico. Sappi comunque che il tuo impegno è di esempio all'umanità e se sei rimasto deluso, fa niente, vivi la tua vita. Grazie.